salve a tutti ragazzi video veramente misterioso registrato in argentina guardiamo il video secondo questo ragazzo che stava filmando il cielo questo oggetto luminoso ha attraversato tutto il cielo ma dice che non era un meteorite ma lui vedeva benissimo che era un oggetto anche se ragazzi se io torno indietro per l'amore di dio e cerco di ingrandire però purtroppo una cosa è guardare con gli occhi e una cosa è guardare con il cellulare guardate qui ecco qui quindi non so ragazzi io vi direi anche io una bugia non so che diavolo possa essere quindi come sempre mi affido a voi secondo voi ragazzi è un ufo o è un meteorite e come sempre dico ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero quindi ripeto io non so esattamente cosa potrebbe essere eccolo qui l'ho ingrandito di più ecco qua vedete mi sembra potrebbe essere un oggetto ma come non potrebbe quindi non lo so come sempre ragazzi al prossimo video ma soprattutto al prossimo mistero